Il caso era stato sollevato nei giorni scorsi proprio in un'intervista a TRG del commercialista e consulente fiscale Renzo Amanzio Regni e ora diventa oggetto di un'interrogazione in consiglio regionale. Parliamo degli accertamenti fiscali in corso sulla tassazione dei trattamenti pensionistici per il lavoro all'estero, fatti specie che interessa centinaia di famiglie Umbre, in particolare nell'area del Legubino Gualdese, da dove per decenni migliaia di persone si sono trasferite all'estero in cerca di lavoro e hanno maturato reddito e pensione. Uno dei paesi di maggiore densità migratoria dall'Umbria è stato ad esempio il Lussemburgo e non a caso sulla questione, proprio in riferimento al piccolo paese del centro Europa fa riferimento un'interpellanza promossa dal consigliere regionale Ugubino Andrea Smacchi che ricorda la convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo sancita nel 1981 vieta le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulle patrimonio, con il fine da un lato di prevenire le evasioni fiscali e dall'altro rappresenta un importante strumento di politica internazionale tributaria, volto ad evitare che uno stesso soggetto sia tassato due volte in due stati diversi. Dai controlli effettuati nel 2016 dalla Guardia di Finanza su incarico dell'Agenzia delle Entrate di Perugia, sui redditi non dichiarati del modello, sono scattate delle pesanti sanzioni pari al 120% dell'imposta, a carico di quei soggetti che sono in particolare persone del comprensorio dell'Alto Chiascio che negli anni 60 emigrarono in Lussemburgo. Premesso che occorre chiarezza sull'esigibilità delle somme richieste alla luce dei diversi pareri discordanti che si sono susseguiti negli anni da parte dell'Inps delle commissioni tributarie e delle direzioni regionali e che non chiariscono quindi la certezza o meno nella norma, prosegue Smacchi nella sua nota, parliamo di somme da restituire che si aggirano intorno ai 25-30 mila euro, cifre importanti che stanno costringendo i pensionati a ricorrere a prestiti ad hoc per riuscire a pagare. Tutto ciò deve essere chiarito, conclude Smacchi, non si può scaricare su persone che hanno lavorato per una vita le incertezze interpretative di uffici dello Stato. Nell'interrogazione alla Giunta regionale l'esponente del PD o Gubino chiede di conoscere quali azioni il governo regionale intende intraprendere per risolvere questa problematica al fine di ottenere la non applicazione delle sanzioni tributarie almeno in presenza di obiettiva incertezza della norma. I prossimi giorni potranno dare una risposta minima al quesito anche se per ora l'attività di accertamento delle fiamme gialle proseguono e l'incertezza tra tanti pensionati dell'Eugubino Gualdese permane.